eeeh già già perchè c'è sempre una parte da recitare si fa nel mondo prima se ritornassi vestita soltanto nel bicchiere davvero è benissimo puoi tornare così bella 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 eeeh bella campatoio ed è proprio quella 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 cheee io non ci amo e la camera ora e' un flacone dell'odore di leee barracuda regalami un po' di calore bambolina a canade di piccola eeeh so eeeh le e e e e Grazie.